uno che corre la visione del pilota ricordati che abbiamo un'area in depron con una sbarra di carbonio di vento ma si possono far atturare tutte le centine e ti ritrovi con una specie di pezzo di cartone di depron quella mi sa che vuole ancora ok cerca di guadagnarti da bassa velocità vedi che ha molta inerzia ti dispiace portare a sudare dopo? prova facciamo anche una prova comunque vai ce n'hai di motore ancora? si 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 e devo scendere di 4 molto prima perchè scendere di 4 prende un fratto di velocità si puoi anche fare delle virate a destra e a sinistra per smaltire la velocità un cazzo di alberi vedi così? smaltisce un po' la velocità si sarebbe perfetto no? uillà non è di motore eh? è fantastico questo motore la copiata motore e modello è perfetta in questo caso che motore a scoppio? perchè stai prendendo la faccia? stai sponendo il modello una visione bellissima così la vista del pilota vediamo su youtube ma la tira sulla gopro immagina che raggiungi quasi un terzo di velocità in più per tirarla su ecco 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 Grazie per la visione